Detenzione carceraria in condizioni inumane con spazio a disposizione inferiore al minimo accettabile. Per questo motivo la sezione civile del Tribunale di Messina ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire il danno ad un detenuto dell'Interland Nebroideo. A rivolgersi al Tribunale Peloritano è stato l'avvocato Giuseppe Tortora. Nel suo ricorso il legale ha evidenziato che 1.591 giorni di detenzione presso la casa circondariale di Gazi a Messina erano stati vissuti all'interno di una cella di 15 metri quadrati con altri 6 detenuti dunque con meno di 3 metri quadrati a persona, una condizione carceraria inumana e degradante con uno spazio inferiore al minimo accettabile indicato dalla giurisprudenza in un luogo oltre ai detenuti c'è la branda, due armadietti, uno sgabbello, un tavolo. Soprattutto alla luce del mobilio fisso lo spazio a disposizione si è ulteriormente ridotto da qui la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali tra la soddisfazione per lo studio Tortola per il risultato raggiunto anche l'evidenziare come il problema delle condizioni carcerarie dei detenuti presso la casa circondariale italiana continua ad essere irrisolto e che costa ogni anno allo Stato molto più di quanto costerebbe l'adozione di serie politiche di riforma del sistema detentivo.